Purtroppo è successo di nuovo. Poco fa ero sul sito Panini per andare a recuperare qualche ecoblister dell'ultima collezione di carte di One Piece e il suo venticinquesimo anniversario quando mi sono imbattuto in una nuova collezione sempre a tema One Piece e sempre firmata da Panini. Quindi sono qui ragazzi per fare questo video un pochino improvvisato e mostrarvi di che cosa si tratta, capire che cosa voi ne pensate e capire anch'io stesso come sarà strutturata e se varrà la pena prenderla o meno. Intanto possiamo vedere appunto nella sezione figurine e card questa nuova collezione chiamata One Piece Treasure Box Official Card Collection Panini. Un qualcosa che mi va a ricordare un pochino la Treasure Box di Dario Moggia sempre in collaborazione con Panini in uscita a dicembre. Questo invece sarà disponibile dal 31 10 del 2024 quindi fra una manciata di giorni probabilmente in occasione del Luca Comics End Games 2024. Sarà una sorta di edizione limitata con un sacco di bella roba così sembra. Adesso intanto vi faccio vedere qualche immagine e ci sarà una gran quantità di carte, gran quantità, adesso in realtà andremo a vedere quante saranno effettivamente le carte, ci saranno tre pacchetti più un pacchetto con delle carte parallel, tre pacchetti da 10 e poi questa sorta di moneta, di carta con una moneta che sarà sia silver o silver o dorata, con quella dorata disponibile soltanto in mille pezzi. Un qualcosa che ricorda un pochino quello che succede con Disney Anthology però ovviamente sono due cose completamente distinte, separate e completamente diverse. Poi ovviamente per chi prenoterà entro una certa data che vedremo fra poco riceverà questa promo card molto carina, molto colorata, insomma per gli standard panini diciamo che ci si accontenta. Ora innanzitutto andiamo a leggerci un attimino la descrizione, sarà disponibile dal 31 10 2024 al prezzo di ben 100 euro. Il che ragazzi adesso vediamo il contenuto non è che la cosa mi faccia particolarmente impazzire. Nella descrizione possiamo leggere che si tratta di un tributo speciale alla leggendaria giuba di Cappello di Paglia con un nuovo tesoro da collezione. Parti all'avventura con la nuova e imperdibile collezione ufficiale di card di One Piece. Questa collezione sarà composta quindi da un totale di 70 card. È perfetta per i collezionisti e fan dell'anima la ricerca di card rare e oggetti unici da collezionare. Va beh. Ogni treasure box quindi conterrà tre bustine da dieci carte base che ricordo essere 70 in totale. Quindi con un box solo ragazzi non ci fate nulla. Una bustina da tre card carte parallel di cui una numerata, il vero gioiello della tua collezione. Una pergamena con uno dei due soggetti disponibili. Quindi anche in questo caso ad essere fortunati ci vorranno almeno due box per avere entrambi i soggetti disponibili su questa pergamena. E poi una icon card esclusiva in una delle due versioni, silver o gold, che sarebbe quella l'icon card, quella che abbiamo visto prima, quindi con la moneta o appunto silver o argentata o dorata. Con ogni box preordinato dal 21 al 30 ottobre, quindi veramente una manciata di giorni, si tratta di nove giorni appena, dieci giorni, sarà disponibile una card promozionale esclusiva per celebrare il venticinquesimo anno dell'anime di One Piece, quella che abbiamo visto poco fa. Poi abbiamo anche la checklist che adesso ovviamente andremo a vedere e poi qui ci dicono praticamente che può essere fatto soltanto un ordine con un massimo di tre box, il che va un pochino a far sembrare appunto che questo sarà un'edizione limitata. Non credo proprio, anzi sono sicuro al 99,9% che questo treasure box sarà disponibile in edicola, quindi sarà solo un qualcosa disponibile sul sito Panini o comunque, scusate, in probabilmente anche altri siti, fumetterie e quant'altro, ma non dovrebbe essere in edicola come il treasure box di Disney Anthology. Andiamo a dare un'occhiata, visto che abbiamo la possibilità di vedere questa checklist, bella come al solito l'immagine trattandosi di One Piece, molti colori, molte cose belle. Ci saranno quindi, se non mi sbaglio, sette tipologie di carte differenti. Abbiamo le character cards, sono dieci, sono sempre gli stessi personaggi, quindi la ciurma di cappello di paglia e qui possiamo vedere che tutte le card base possono essere trovate anche nelle loro versioni parallel. Avremo la wave holo con relativa percentuale di possibilità di trovarla, space holo, distortion holo, marble oro, stretched holo, fireworks holo e cracked holo. Come vedete abbiamo tutti i vari personaggi, queste sono solo alcune, le character cards, poi abbiamo le power cards che invece sembrano essere dei personaggi diciamo nelle loro versioni power, nelle loro altre versioni alternative, treasure cards, anche queste carine, oddio, le chibi cards con i personaggi chibi, le silver cards con questo tema arancione, sono card orizzontali e scritti i vari nomi, quindi Franky, Brook, Jinbe, eccetera eccetera. Le wanted cards con i vari poster wanted, sempre degli stessi personaggi, quindi saranno 10 personaggi e poi le varie tipologie appunto sempre per gli stessi e le jolly cards con appunto i vari loghi, i vari jolly di questi personaggi. Ragazzi, io vi dico la mia opinione personale, so che i fan di One Piece che guarderanno questo video magari mi attaccheranno e quant'altro, ma la mia opinione personale è che le card sono relativamente carine, oddio, chi è abituato, come ho detto anche per gli altri video che vi invito a recuperare se vi va relativi alla collezione sempre panini del 25esimo anniversario che sto per completare, ci sto lavorando, sono delle card belle rispetto agli standard panini, se poi le mettiamo a confronto con le card del TGG, quindi del Trading Card Game, ovviamente quelle sono spettacolari, ma hanno anche un altro prezzo, questo è quello che dicevo per quelle del 25esimo anniversario. In questo caso ragazzi io direi che 100 euro per 3 pacchetti, quindi per 30 card più 3 card parallel, ok? Poi c'è la monetina, c'è il treasure box e tutto, secondo me per le mie tasche fosse un po' troppo eccessivo come prezzo, non saprei. Considerando che in Disney Anthology già troviamo a 140 euro, 60 card, diciamo che in proporzione sono due cose distinte e separate, ve lo ripeto, però un attimo due ponti, uno se li fa. Quindi ragazzi, non saprei, sono curioso di sapere voi che cosa ne pensate, è una collezione così a sorpresa, droppata in questo modo, io non me l'aspettavo proprio, vi dico, volevo acquistare degli Diego Blister per la collezione del 25esimo e invece mi sono trovato questa sorpresa, c'è anche veramente poco tempo per trovarla, per acquistarla, scusate. Volevo ripetervi quindi che la Icon Card Gold, quindi quella con la moneta dorata, sarà disponibile in soli mille esemplari. Adesso ragazzi, io per me è tutto, questo video possiamo chiuderlo qui, era giusto per informarvi appunto di questa nuova collezione, che siccome i tempi sono molto ristretti, io davvero non so cosa fare, anzi consigliatemi voi se vale la pena secondo voi acquistarne uno, se sareste interessati a vedere questa nuova collezione sempre sul canale, con un video dedicato ovviamente. Io ho qualche dubbio, mentre su quella del cinquesimo anniversario, quindi delle 150 e passa card, non avevo dubbi perché il prezzo era relativamente favorevole, 25 centesimi alla fine a carta, ci può stare, sebbene la qualità non fosse delle migliori, perché francamente ragazzi parliamo sempre delle solite card panini, con un frame dell'anime schiaffato su uno sfondo colorato e un contorno, ok? Per alcune card, per la maggior parte. Poi ce ne sono altre invece più curate, secondo me fatte meglio, per cui vale anche la pena spenderci anche un pochino di più. Però in questo caso carine le card, sempre gli stessi soggetti in ambiti differenti, quindi con tipologie differenti di carte, qualche chicca quella come la pergamena, la monetina eccetera, però ecco il prezzo di 100 euro a me personalmente per le mie tasche, per quello che io ci spenderei, fosse un pochino eccessivo. Quindi ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere voi quello che vi ho chiesto prima, quindi se vi piace la collezione, che cosa ne pensate, se che valireste che l'acquistassi almeno uno per portarlo sul canale, poi ovviamente ragazzi vedrò come sarà un messo, anche perché si avvicina il look a comics and games e lì qualche spesuccia si fa sempre, quindi vediamo un attimino. Ho fatto questo video proprio per questo, per avere qualche consiglio da voi e ovviamente anche per informarvi e per creare una sorta di discussione che spero sia il più pacifica possibile ragazzi. Quindi fate i buoni, fate i bravi e ci sentiamo qui sotto nei commenti. Ciao ragazzi, a presto!